Questo video riguarda i migliori tre guanti antitaglio. Il vincitore della qualità è lo Kawadak Guanti Antitaglio. I guanti antitaglio sono realizzati in fibra di polietilene ad alta resistenza e filo di acciaio inossidabile che sono 10 volte più resistenti dei normali guanti. I materiali resistenti al taglio sicuri consentono ai guanti resistenti al taglio di entrare in contatto diretto con gli alimenti. I guanti chain mail sono costituiti da un guanto di metallo e un guanto di nylon bianco. Il guanto in nylon riduce l'attrito dei guanti in metallo e rende l'uso più confortevole. I guanti da lavoro Safti o Kawadak sono ideali per molti lavori che come frustare, intagliare, giardinaggio, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli e pesca. C'è solo un guanto resistente al taglio nella confezione. Sia le mani sinistra che destra possono essere indossate. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il EZ Life guanti antitaglio. Sei ancora preoccupato per l'utilizzo di tutti i tipi di coltelli e strumenti affilati. Questi guanti da lavoro di sicurezza sono progettati per proteggerti da infortuni alle mani. Guanti antitaglio sono realizzati in polietilene al grado alimentare e fibre esclusive a base di silice. Conforme alla quinta classe di protezione del taglio delle norme in 388 e alla classe di sicurezza alimentare, quattro volte più forte del cuoio. Con materiale sensibile conduttivo sulle tre dita. Consentire di utilizzare lo smartphone, il tablet o altri dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti puntotevole. Anche se devi lavorare per tante ore, non ti danno fastidio i sudori, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro a portata di mano. Grip superiore con aderenza per mani grandi e piccole. Prepara il cibo o lavora su lavori che richiedono precisione con completa destrezza. Guanti antitaglio sono estremamente morbidi, confortevoli e di alta elasticità, con un peso inferiore a 60 G. Il vincitore del premio è il Grebarley guanti antitaglio. Viene adottato l'HPP in materiale antitaglio ad alte prestazioni e i guanti sono stati premiati con la più alta certificazione in 388 livello 5 resistenza al taglio. Eccellente comfort ed estrezza da indossare e da impugnare. Lo speciale nylon traspirante ad alta elasticità è miscelato per adattarsi perfettamente ai guanti. È compatibile con il touchscreen del dispositivo elettronico. Facile da disinfettare e da pulire. È lavabile a mano e in lavatrice, può essere igienizzato come asciugamano per lavastoviglie. Evita il 99% di infortuni accidentali alle mani della tua famiglia in occasione di tagli in cucina e lavori in giardino, scuotimento di ostriche, taglio di carne, mandolino al burro e così via. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.